E' difficile non notare per chi percorre la strada provinciale 430 Cilentana il tratto a scorrimento veloce che collega Alto e Basso Cilento che a partire dall'uscita di Agropoli Sud e fino a Sapri non vi sia una corsia d'emergenza che non si presenti di colma di rifiuti. Il Comune di San Giovanni Appiro ha raccolto l'invito del Parco Nazionale del Cilento Valodiano Alburni che in collaborazione con l'ANAS ha invitato i vari comuni a fare un'azione di bonifica delle piazzole in relazione alla propria appartenenza geografica. Abbiamo avuto ai nostri microfoni il Vice Sindaco Pasquale Sorrentino di San Giovanni Appiro il quale ha aderito in prima persona ed in collaborazione con associazioni alla bonifica delle varie piazzoli adiacendi nel tratto di Cilentana che ricade nel proprio Comune. Il Comune di San Giovanni Appiro ha aderito con le associazioni come Sentieri del Cilento e con il progetto del servizio civile a questa opera di bonifica che prima di passare per le strade dovrebbe passare per le coscienze di quella che dovrebbe essere un razzismo, questo dovrebbe essere un vero razzismo per chi esercita questa forma di violenza e non merita di appartenere all'unica razza al mondo che è quella umana. Come vedete ci è buttato di tutto in questa superstrada e non può essere questo un biglietto da visita per chi viene a visitare il territorio del parco e dell'area marina protetta, quindi l'invito è che ognuno di noi faccia la propria parte partendo dal proprio territorio e non dimenticandosi che quello che abbiamo è un mondo in prestito.